Sono a Toscani di Organizzare Italia, sono Professional Organizer, ovvero professionista dell'organizzazione, ho già sbagliato sul nome, benissimo. Allora, siccome sono freelance da più di 12 anni, so cosa vuol dire essere freelance, in più negli ultimi 4 anni mi sono specializzata nel cercare soluzioni organizzative per le persone, perché questo faccio. E quindi vi do due dritte su quello che potremmo fare come freelance per lavorare un po' meglio. Il problema dei freelance, cioè la vita è complicata per tutti, la vita dei freelance è vicino, ancora più, così? Ah ok, non lo sapevo, mi sento un po' rigida. Abbiamo tantissimi impegni e cerchiamo di farli incastrare in generale. I freelance hanno ancora più ruoli, come diceva Miriam stamattina, abbiamo tantissimi ruoli in più, perché siamo anche i capi di noi stessi, e diventa un bel casino, perché dobbiamo anche controllarci, oltre a fare tutte le altre cose. E quindi ho pensato, guarda un attimo come è, mi cerco una mia risposta. E che è la risposta, come sapete, non so chi lo sapete, è dentro di noi ma è sbagliata. Ve lo dimostro. Adesso, avete un, ecco, benissimo, chiudete gli occhi e contate, cioè contate, quando pensate sia passato un minuto, alzate le mani. Pronti? Avete capito? Sì, perfetto. Pronti? Via. Chiudere gli occhi e alzare la mano quando pensate sia passato un minuto. Tu, 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 tu sei seconda in via. Grazie. 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 Sessanta. Sessanta. Adesso è passato un minuto. C'era qualcuno che si era addormentato? Non dovevo fare... È lunghissimo. Allora, io facevo fatica a contare perché va indietro, quindi non riuscivo a fare la sottrazione. Con questo cosa vogliamo provare? Che la nostra percezione del tempo... Aspetta che tengo vicino al gelato. La nostra percezione del tempo è... Non possiamo fidarci della nostra percezione del tempo. Per un freelance è un bel casino questa cosa qui. Quindi, come dice Jacopo Fo, la mente mente altrimenti si chiamerebbe sincera. Visto che non dobbiamo e non possiamo fidarci della percezione del tempo, quello che dobbiamo fare, e è la prima regola consigliabile per i freelance, soprattutto in generale, è disegnarci che cosa facciamo durante la giornata. In particolare per tenere traccia dei progetti che facciamo sui vari clienti, proprio per capire quanto tempo spendiamo su un cliente. In generale, però, segniamoci anche per un breve periodo, basta anche una settimana, dieci giorni, due settimane, come passiamo il resto del tempo. Quindi non solo sul progetto, ma anche a rispondere a un post di Facebook, piuttosto che a leggere un'email, piuttosto che a guardare un messaggio di WhatsApp, perché troveremo a consuntivo che forse avremo speso più tempo a fare queste piccole cose durante la giornata di quello che pensiamo. Ed è incredibile come succede. È un po' pesante farlo, ma è veramente illuminante quando si leggono i dati. Quindi quando andiamo a sommare tutti i minuti che noi abbiamo perso a fare una cosa che forse non ha tutta questa rilevanza, ci sorprenderemo. E quindi possiamo vedere se funziona o no come stiamo gestendo la giornata in quel momento. Io ho guardato la mia giornata e ho visto che in effetti le interruzioni rappresentano, lavorando da casa, non ho colleghi che mi possono interrompere, però ho altre cose. Tipo i venditori di religione o di energia, che lo sapete che l'energia non è vero, che costa 10% in meno, quindi non vale la pena perdere tempo perché è una fregatura, ti vendono a vendere delle cose che non sono vere. La religione lasciamo stare. Le chiamate di quelli che ti vogliono vendere al telefono. Quanto ne ricevete? Qualcuno le riceve a casa le chiamate? Non rispondi più. Altrimenti potete, visto che magari può anche essere il papà o la mamma, è par brutto, ci si può scrivere al registro delle opposizioni.it e si scrive il proprio numero di telefono scrivendo che non si vogliono più ricevere chiamate di... Chiamano lo stesso? Ma questo in linea teorica dovrebbe funzionare, se no passiamo alla seconda soluzione e non rispondiamo. L'altra cosa, pensiamo un po' quando il postino ci suona, andiamo a prendere quel che è e poi ringraziamo e salutiamo. Se il postino risuona, andiamo di nuovo a prendere la posta, ringraziamo di nuovo e salutiamo. La terza volta, diciamo al postino, senti, se ti sei dimmincato ancora qualcos'altro, mettilo in buchetta che poi ci guardo. Questo con la posta normale, col cartaceo. In realtà con l'email non facciamo così. Continuiamo a ritornare a vedere nella posta se è arrivato qualcosa. Poi apriamo, riponiamo nella buchetta e torniamo via. Cosa che col cartaceo non facevamo mai nella vita. Quindi questo può far perdere molto tempo. Quindi non lasciamo che il postino suoni troppe volte. Questo l'ho notato su di me e quindi immagino che comunque sia un problema comune dei freelance. Altre cose con tutte le notifiche che ci arrivano. Anche quello, come dicevo prima, in realtà sono pochi minuti ma messi tutti insieme cominciano a fare una bella oretta, un'oretta e mezza, anche solo mezz'ora. Però poi ci lamentiamo che non abbiamo tempo di fare quella mezz'ora d'aria che magari vorremmo. Poi impariamo a prendere delle riunioni con noi stessi. Proprio perché noi siamo in casa, magari abbiamo meno interruzioni rispetto ad altri. Però il fatto di staccarsi un attimo da internet, spegnere il cellulare e buttarsi su un unico compito, come suggeriva Miriam stamattina, senz'altro aiuta a fare le cose fatte bene. Perché il multitasking diceva, Miriam, non lo possiamo fare bene, il risultato non è buono se lavoriamo così. E poi anche le applicazioni, oggi ne abbiamo viste interessantissime, le usiamo. Però non le usiamo troppe. Anche farsi affascinare dalle applicazioni e perdere il tempo, così potrebbe essere soprattutto quelle organizzative, parlo io, delle to-do list, eccetera. Ce n'è una che va bene per noi, ma non dieci, o probabilmente ci fanno solo perdere del tempo. Quindi cercare di valutare quella applicazione, quelle due o tre, che ci possono effettivamente essere d'aiuto e non perdere l'altro tempo a valutarne delle altre, a meno che non ci sia una vera necessità organizzativa. E la cosa che a me interrompe di più non sono tanto le interruzioni esterne quanto la mia mente, che vaga di continuo e quindi spesso il problema è di distrazione. Cosa cerco di fare? Cerco di scrivere tutto, cioè qualsiasi cosa mi venga in mente che mi disturba nel momento in cui sto facendo una cosa, la tengo segnata in modo tale da non perdermela. Potrebbe anche essere un'idea geniale, quindi preferisco non perderla. In ogni caso è un modo per liberare la mente, mi sembra che qualcuno l'abbia detto anche prima nel modello GTD, raccogliendo tutte le idee in un solo punto, quindi facendo in modo che se anche io scrivo o ragiono in altri posti poi mi trovo tutto in un unico punto per avere fiducia di poi ritrovarlo quando ne avrò bisogno e per non dimenticarmi. Ed infine cercare di dividere in parti la giornata in modo tale che quando mi assaporo una fetta di torta faccio solo quello, quindi mi dedico a quello e faccio quello col massimo dell'entusiasmo. Poi passo a quella successiva, quindi non sbocconcellare di qua e di là perché si vede una grossa differenza. Quindi mantenere la programmazione abbastanza rigida perché se no il freelance rischia di disperdersi nella giornata e quindi buttare via dei minuti preziosi. Io ho finito, grazie a tutti. Ho finito troppo presto?